Ciao a tutti ragazzi, sono Toma Mirko, bentornati su Gameplay Channel e su questa app veramente fantastica ragazzi è un gioco gratuito ed è un gioco dedicato al mitico Chuck Norris guardate qua come cavolo volano i nemici, facciamo il colpo del tuono questa app ragazzi mi piace un casino, è divertentissima, non è niente di che come vedete non sto tocando niente, Chuck Norris continua praticamente a combattere in automatico noi l'unica cosa che dobbiamo fare è cliccare, vedete queste icone che ci sono sotto il mio faccione quelle che ho scritto calcio, tuono, ombra, praticamente sono delle mosse speciali che appunto noi possiamo attivare quindi l'ombra ci dà un personaggio aggiuntivo, il calcio fa il mitico calcio rotante di Chuck Norris e il tuono fa questa cosa qua che poi io adesso ho potenziato quindi mi fa anche diciamo l'effetto lava sotto i nemici quindi li va ad uccidere il gioco è un gioco gratuito come sempre ci sono vedete promozioni sia sul guardare video che su comprare eventuali crediti e cose varie per sbloccare nuove abilità nel menu abbiamo appunto la classifica perché abbiamo anche una classifica diciamo mondiale noi adesso tanto siamo ottavi, la classifica si basa sui piani che il nostro Chuck Norris riesce a fare quindi man mano che sconfiggiamo i nemici in un piano diciamo sblocchiamo il piano andiamo a quello successivo e quindi naturalmente saliamo anche in classifica con lo zaino quindi tasto zaino abbiamo la possibilità vedete di migliorare le varie armi armi che si trovano appunto man mano che proseguiamo nel gioco io adesso ho una motosega addirittura prima avevo una mazza da baseball qua abbiamo i vestiti anche questi potenziabili che ci danno ovviamente della difesa in più e abbiamo anche appunto i cappelli tra l'altro ne ho uno nuovo cos'è che ho? no vabbè dai il cappello da cosa? da glieno per Chuck Norris quando viene indossato da Chuck Norris il software diventa hardware vabbè ste frasi tipo la trasmissione dello zoo di 105 sono spettacolari ogni oggetto ovviamente ci dà anche dei vantaggi vedete 12% velocità di attacco e 20% danni dopo mossa quindi direi di equipaggiarci questo che peraltro è anche a livello 63 lo portiamo a livello 70 ce la facciamo assolutamente sì potenziamo ancora la pelle di mucca e il vestito potenziamo assolutamente la nostra motosega vai che potenziamo ok basta ho finito le monete naturalmente i potenziamenti ragazzi li facciamo con le monete che ci danno appunto i nemici man mano che li uccidiamo poi abbiamo degli oggetti diciamo particolari che possiamo utilizzare quindi diciamo tipo quest'acqua qua adesso ve la faccio vedere vedete se la bevo guardate Chuck Norris fa sul serio e inizia praticamente a mazzolare alla velocità della luce tutti i nemici quindi fa una marea di danni vedete che adesso ho liberato tutto il piano quindi sono andato diciamo al piano successivo mamma mia cioè Chuck Norris è devastante ragazzi veramente qualcosa di devastante guardate qua mamma mia sto facendo i quei danni vedete qua praticamente ho la modalità super Chuck Norris con questa con questa pozione quindi anche tutte le mosse si ricaricano molto più più velocemente e quindi facciamo un danno ragazzi assurdo aspettate magari sposto un po' la webcam sotto così vedete anche le scritte ok io lo consiglio ragazzi perché Chuck Norris 8 nemici sconfitti contemporaneamente mamma mia che spettacolo guardate che cavolo di devasto che sto facendo ok quello si è andato perché abbiamo sconfitto il boss super Chuck Norris stiamo seguendo Robogatto 9000 in un'altra era potenziale tocca appena ovviamente danni mossi si lo so già ok qua abbiamo seguito praticamente il boss Pietra Migliare raggiunta ha raggiunto il piano 30 per la prima volta hai guadagnato le ricompense riscattole creando un nuovo universo crea un vortice ah perfetto quindi poi man mano che creiamo vortici che facciamo cose andiamo a sbloccare altri piani nuovi nemici mamma mia guardate che cavolo sto facendo ragazzi veramente un devasto spacchiamo tutto ma vaffa guarda lì che roba 4 nemici sconfitti con un colpo solo vai qua 6 nemici sconfitti con un colpo andiamo a fare il tuono vai di calcio rotante mamma mia no stop qua con Chuck Norris è il mio sogno tutta la vita tra l'altro possiamo anche potenziare una marea di oggetti adesso lo faremo però prima facciamo così 6 nemici mamma mia i nemici diventano sempre più forse è arrivato il momento di creare un vortice scusate sposto alla webcam e far diventare più forte Chuck Norris che ne dici si possiamo anche farlo quindi andiamo su avventura vedete qua abbiamo tutti gli oggetti per fare crea vortice facciamo crea vortice e a questo punto guardate Chuck Norris che fa il mega vortice addirittura e arriva Chuck Norris sta creando un vortice aspettate sposto alla webcam perché ragazzi qua ne vale la pena anche leggere le frasi mi fa morire da ridere ok congratulazione abbiamo guadagnato anche dei gettoni abbiamo ottenuto dell'acqua quella che abbiamo utilizzato prima abbiamo ottenuto delle ricompense un kit medico ok allora qua riscattiamo tutti i vari premi qua tra l'altro abbiamo anche degli animali che man mano che diciamo andiamo a collezionarli poi penso avremo questi animali una volta che li sblocchiamo tutti che ci seguono quindi ci daranno una mano abbiamo anche la doppia ombra mamma mia che spettacolo quindi possiamo creare due ombre adesso adesso lo andiamo a fare subito abbiamo completato 5 missioni wow spettacolare ragazzi allora qua abbiamo abbiamo sbloccato un nuovo aiutante lo stivaletto ha un attacco in carica ok come faccio adesso a prenderlo facciamo così penso di dover fare solo questo credo di sì quindi ho sempre lo stivaletto allora sull'ombra ecco qua andiamo nel menu mosse e qua praticamente abbiamo sbloccato una nuova mossa quindi adesso dovremo creare due ombre esattamente ok allora adesso qua sono i nemici un pochino più cazzuti quindi andiamo a ovviamente ogni volta che diciamo andiamo a creare un vortice quindi andiamo in un nuovo mondo anche il nostro equipaggiamento diciamo si azzera e quindi lo dobbiamo risbloccare praticamente che cavolo ho fatto mi è partito il calcio rotante così a muzzo ok vedete che adesso mi è comparsa la scritta niente il boss facile perché man mano che miglioriamo l'equipaggiamento e tutto il boss diciamo da arduo quindi praticamente da impossibile da sconfiggere diventa facile e quando diventa facile ci clicchiamo sopra e andiamo a fare boss cattivone andiamo a mettere l'ombra ah sì vedete che ho lo stivale che mi segue che prende a calci in automatico gli nemici no vabbè spettacolare sta cosa ok l'abbiamo massacrato l'abbiamo praticamente già massacrato cassa del vecchio maestro wow cosa abbiamo sbloccato il cappello il cappello da cinese praticamente quindi lo stivale in linea di massacito dovrebbe essere esatto ci segue sempre praticamente abbiamo allora equipaggiamo assolutamente questo bel cappellino lo portiamo a livello 5 qua aumentiamo un po' l'attacco aumentiamo anche la difesa ok abbiamo aumentato un po' di roba perfetto abbiamo la doppia ombra credo ne abbiamo due io ne vedo solo uno vediamo un attimo se effettivamente l'abbiamo sbloccata si doppia perfetto doppia ombra va bene allora vai che aumentiamo anche questo ok e la cosa carina che poi quando siamo praticamente off camera comunque Chuck Norris va avanti lo stesso perché non si ferma mai cioè Chuck Norris mena 24 ore al giorno 7 giorni su 7 senza praticamente mai pause e quindi quando poi ritorniamo in gioco diciamo ci dice quanti nemici ha sconfitto Chuck Norris io tipo non ci ho giocato per un paio di giorni ma era comparso di Chuck Norris aveva sconfitto 5000 nemici una roba del genere è una cosa veramente devastante ragazzi guardate i bellissimi nemici che si spiacicano contro lo schermo dello smartphone spettacolare ragazzi no questo gioco qua è fighissimo a me piace un casino ve lo consiglio ragazzi perché vabbè è comunque divertente molto carino come passatempo vediamo se siamo saliti in classifica e siamo a pari merito con stelli di pietra quindi tra un po' al prossimo piano dovremo anche aumentare allora andiamo ad annientare il boss dato che è facile sblocchiamo l'ombra intanto boom facciamo il tuono vai col calcio rotante l'abbiamo già massacrato guardate che bello Chuck Norris col cappellino da cinese cassa da reda guerra no c'ho il fucile cioè adesso abbiamo anche il fucile ma che spettacolo cioè ogni volta ragazzi andiamo praticamente a sbloccare nuove cose fucile di precisione con questo fucile Chuck Norris ha eliminato oltre 50 nemici la distanza non tempo senza mai sparare un colpo solo Chuck Norris può farlo fantastico allora aumentiamolo un bel po' portiamolo almeno a livello 15 ah ma perché non è che lo usa sparando giustamente lo usa proprio come mazza ah ok ecco perché senza mai sparare un colpo adesso m'ho capito vedete alla fine lo usa in realtà come una mazza che cavolo ho fatto mi è partito il tuono così a random bellissimo ok vai che forse riusciamo anche a mamma mia quanti cavolo di nemici quattro nemici contemporaneamente scusate hai risposto un po' la webcam piano ripulito in teoria dovremmo essere anche aumentati no sempre 32 allora qua posso no ok devo ancora sbloccarlo ah tra l'altro qua ho anche la possibilità sempre sotto avventura di spendere questi gettoni per avere dei potenziamenti più 200% bonus monete io farei questa sinceramente e posso anche prendere questa qua dei danni ok dai aumentiamo un po' di roba perfetto così guadagniamo un bel po' di monete in più almeno riusciamo anche più facilmente a a collezionare appunto monete quindi a aumentare le nostre armi questo assolutamente portiamo la 20 questo almeno a 15 questo a 16 ok allora vai cavolo volevo almeno aumentare di rango in classifica mamma mia 5 nemici sconfitti contemporaneamente qua abbiamo preso un bel po' di monete evochiamo le ombre boom che devasto vai invitiamo anche questo boss che tanto anche questo è facile vai dammi l'ombra boh già massacrato proprio due un calcio rotante è bastato per massacrare anche questo abbiamo anche il kimono no vabbè è fighissimo voglio assolutamente Chuck Norris col kimono che è uno spettacolo assurdo rialzo un po' la webcam allora questo qua è il kimono nota storica Chuck Norris lo indossava mentre ha sviluppato la propria arte marziale il il Chan Kun Do Chan Kun Do va bene lo equipaggiamo livello 17 ok aumentiamolo aumentiamo anche questo aumentiamo anche questo vai guardate il nostro mitico Chuck Norris addirittura col kimono che spettacolo mamma mia sto facendo un devasto assurdo quattro nemici ma sono aumentato in cacchio di classifico o no si dai piano più alto 32 ma perché adesso si è giusto riparto perché mi ha fatto cambiare dimensione quindi sono ripartito dal piano più basso invece mi conviene stare nella stessa dimensione così almeno aumento praticamente praticamente il piano va bene ragazzi comunque che dire questo è il gioco che trovate tra l'altro appunto per sistema android non so se ci sia anche per ios sinceramente non ho guardato io vabbè utilizzo android quindi naturalmente guardo principalmente per android al massimo se avete ios o volete guardare se lo trovate magari fatemelo sapere qua sotto nei commenti così per chi fosse interessato anche per sistema ios almeno lo può leggere direttamente dai vostri commenti detto questo ragazzi fatemi sapere naturalmente non farò altri gameplay perché vabbè è un giochino divertente carino soprattutto appunto sulle frasi che ogni tanto vi mette fuori schermo riguardanti il mitico chuck norris però ovviamente non è che ci posso fare una serie perché poi il gioco è uguale è sempre uguale insomma chuck norris che va in giro e mena e di tanto in tanto affrontiamo il boss di turno come questo che non ho letto il nome vabbè tanto questo lo massacro così vedete fa anche la mossina finale chuck norris chuck norris è salito di livello abbiamo raggiunto un nuovo livello e va bene e quindi e poi si va avanti pressoché all'infinito per cui come detto ovviamente non è che ci posso fare una serie o altro però comunque dato che ho la playlist appunto dedicata anche all'applicazione android ai giochi insomma ovviamente per tablet e cellulare quando trovo qualcosa di carino naturalmente ve lo faccio vedere nella speranza che vi piace se così fosse mi raccomando forza quel like non vi scordate sui portati vi condividete commentate e detto questo io e il mitico chuck norris vi salutiamo e ci ribecchiamo come sempre i prossimi gameplay ciao belli ciao 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 Grazie.